ben ritrovati qui su macatec oggi facciamo la recensione di un altro prodotto della fio anche in questo caso in ambito audio stiamo parlando del fio a3 che trovate anche sul mercato con il nome di e 11k e come potete leggere qui è un amplificatore portatile davvero un ottimo prodotto come vedremo abbiamo recensito qualche mese fa il fio x1 di seconda generazione anche qui con uscita ires quindi ad alta risoluzione suonava davvero bene anche il player mp3 di fio l'x1 di seconda generazione che se lo andremo a unire a questo fio a3 davvero diventa una cosa esplosiva ma andiamo con ordine andiamo a vedere il contenuto della scatola per prima cosa andiamo a aprire e vediamo cosa contiene ok l'ho distrutto ovviamente con la solita grazia che mi contraddistingue mettiamo via scatola dentro troviamo due elastici per andare agganciare il nostro fio a3 a uno smartphone principalmente o un player mp3 come vedremo abbiamo poi un cavetto con due jack da 3 e mezzo che come vedremo servirà per andare a inserire l'ingresso audio al nostro amplificatore portatile abbiamo poi qui un'altra confezioncina all'interno che contiene principalmente il cavetto per andare a ricaricare il prodotto quindi abbiamo un usb micro usb classicissima infatti non ho neanche aperto utilizzato già i milioni di cavetti che ho e poi abbiamo qui dentro oltre ai vari manoletti una cosa davvero molto utile ossia due gommini per andare a preservare l'integrità sia dei nostri telefoni o player mp3 in cui andremo ad agganciarlo infatti come vedremo una delle caratteristiche negative se vogliamo parlare di aspetti negativi subito è il fatto che il fio è davvero molto sensibile ai graffi e quindi è giusto andare a proteggere con questi gommini che fio fortunatamente ha messo in confezione gommini che vanno posizionati sul nostro telefono qui abbiamo lo zug da 2 che recensiremo prestissimo davvero mamma mia che bel telefono e ovviamente avendo dietro la parte in vetro meglio andare a proteggerla con il gommino quindi vedete andate a mettere il gommino poi andrete a posizionare il vostro fio a3 ma partiamo con ordine andiamo a vedere un po una carrellata generale di questo fio a3 partiamo dalla parte posteriore anzi partiamo dai materiali che è tutto alluminio davvero buoni materiali con questa texture davvero notevole l'aspetto esteriore di questo fio a3 molto gradevole all'occhio in mano si tiene bene piuttosto compatto 92 grammi abbiamo 91,2 mm di altezza 56 mm di larghezza e abbiamo 13 mm di spessore quindi non è non è proprio enorme è abbastanza contenuta come dimensioni e anche di faccia di pugnatura forse un po lo spessore si fa sentire però si trasporta in maniera abbastanza agevole dietro abbiamo due jack da 3 e mezzo come vedete abbiamo sul lato sinistro l'ingresso aux in abbiamo poi qui a destra l'uscita per le cuffie quindi qui andremo a collegare la nostra sorgente uno smartphone piuttosto che un play di mp3 e qui andremo a collegare le nostre cuffie quindi diciamo che tra il nostro player il nostro telefono e le nostre cuffie si inserirà questo fio a3 che andrà appunto amplificare il suono che esce dalla nostra sorgente audio in mezzo abbiamo la micro usb per andare a ricaricare il fio a3 batteria da 1400 mm per ora vi permetterà di arrivare fino a circa 15 ore di riproduzione continua per ricaricarlo ci vogliono circa 4 ore quindi diciamo buone anche queste caratteristiche sul lato sinistro non c'è niente lato destro non c'è niente dietro abbiamo la scritta a3 appunto il nome del prodotto e altre scritte varie in cinese che ovviamente non capisco assolutamente magari c'è qualche parolazza e mi stanno insultando io non posso saperlo magari se lo capite avvisatemi abbiamo poi qui davanti la cosa più interessante abbiamo la rotellina per andare a impostare il volume vedete questa ghiera davvero di ottima fattura ottimo il grip si muove davvero bene è anche facile da impostare sul lato sinistro abbiamo il guadagno che può essere messo su basso alto e sulla destra abbiamo bassi on o off come vedremo andrà a rendere il suono un po più corposo se attivato ma andiamo proprio a vedere un po come suona questo fio a3 visto che in pochi ve lo fanno sentire io ci provo ovviamente l'audio lo sentirete attraverso il microfono esterno qui che sta registrando questa recensione quindi probabilmente non sarà un risultato ottimale però è giusto per farvi capire per darvi un'idea di come funziona questo a3 vado quindi a mettere come dicevo il gommino vado a posizionare il fio a3 vado a mettere i due elastici per tenere fermo il nostro amplificatore portatile vado a mettere un elastico di qua e uno di qua in maniera che il nostro fio a3 non si muova assolutamente vediamo se ce la facciamo forse è meglio mettersi da questo lato qui ok ce l'abbiamo fatta magari lo posizioniamo un po più sotto perfetto ok siamo pronti per andare a vederlo non ci resta quindi che andare a collegare il nostro telefono e si sarà subito una prima osservazione da fare fio messo dentro questo cavetto e è davvero corto guardate che faccio davvero fatica a inserire il telefono sul fio non mi resta che spostarlo tutto verso sinistra per raggiungere l'uscita e l'ingresso l'uscita del telefono e l'ingresso del fio a3 quindi con questo piccolo strada gemma sono riuscito a collegarlo compromesso che deve stare ovviamente tutto a destra quindi occhio magari comprato un cavetto più lungo per facilitarvi questa operazione abbiamo quindi collegato la nostra sorgente audio non ci resta che andare a inserire il jack da tre e mezzo delle cuffie per l'uscita in questo caso andiamo ad agganciare a uno speaker che abbiamo reciccito qualche mese fa qui su mac i tech giusto per fargli sentire appunto come funziona questo fio a3 ok siamo pronti andiamo a sentire come riproduce ad esempio stay volume al massimo sul telefono quell'importazione del fio è la seguente vedete vediamo se riesco a farvela vedere abbiamo guadagno spento abbiamo bassi spenti e abbiamo il volume al massimo facciamo la magia andiamo a impostare nel guadagno alto sentiamo la differenza bassi togliamo i bassi proviamo un'altra canzone magari proviamo una un po più su ecco questa qui ad esempio grazie a tutti beh che dire ragazzi avete sentito la potenza che esce dal fio A3 davvero notevole adesso andiamo a toglierlo dal nostro telefono in maniera da poterlo rivedere da vicino un attimo quindi aspetto negativo uno solo il fatto che è abbastanza sensibile ai graffi e a strisciare i vari dispositivi su cui viene appoggiato quindi ottima l'idea da parte di fio di inserire questo gommino all'interno della confezione tra l'altro il gommino che vedete si attacca ed è difficile anche poi staccare quindi buono il grip il grip del fio ovviamente è scarso è in alluminio quindi è molto scivoloso ma con questa guaina e silicone che hanno inserito la cosa dovrebbe sicuramente migliorare anzi migliora decisamente abbiamo sentito quindi come suona abbiamo una sensibilità in ingresso quando andiamo sul guadagno basso di 2,4 volt di 0,8 volt quando siamo su alto come guadagno il guadagno appunto a livello alto è di 11,7 decibel avete sentito infatti come pompa l'uscita del fio a 3 quando è a manetta e lo switch su alto è consigliato quando utilizzate ad esempio cuffie con alta impedenza o bassa sensibilità mentre il low che ha un guadagno di meno 3,8 decibel quindi andrà leggermente a abbassare l'ingresso audio è consigliato quando avete ad esempio cuffie con alta sensibilità e bassa impedenza come altre caratteristiche più importanti abbiamo un SNR ossia rapporto segnale rumore di 108 decibel circa quindi davvero buona anche questa caratteristica devo dire quindi l'avete anche sentito voi spero si sia sentito attraverso il microfono con cui sto registrando questa video recensione la differenza netta con l'utilizzo di questo fio a 3 se lo andiamo poi a unire al fio x1 di seconda generazione il gioco è fatto guardate addirittura se lo andate a posizionare in questo senso vi è in tutto molto più semplice abbiamo il cavetto vedete che è corto a sufficienza addirittura potete inserirlo molto facilmente le dimensioni sono praticamente studiate quasi sul fio x1 si collega davvero bene e anche facilmente quindi non mi resta che consigliare questo fio a 3 a tutti gli amanti della musica come avete sentito a livello di guadagno alto anche il rumore inserito è davvero basso c'è qualche piccolissimo fruscio ma davvero per i puristi del suono per gli utenti medi e alti anche abbastanza esigenti comunque questo fruscio secondo me è più che accettabile anche considerando che questo dispositivo costa 70 euro vi lascio il link in descrizione su amazon per andare ad acquistarlo non potrete farne senza davvero se siete amanti della musica brava fio anche in questo caso sei uscita con un prodotto dalla qualità audio davvero ottima e soprattutto con un ottimo rapporto qualità prezzo se considerate poi che è portatile chi l'avrebbe mai pensato che un dispositivo così piccolo potesse generare così tanta potenza per questa video recensione è tutto un saluto da matteo e del figlio a tre che dà un bacino all'x1 di seconda generazione ehi 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 tra generazioni qui cosa combinate per mechetech ciao 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 ciao